women self vision oggi parliamo con la dottoressa chiara morelli responsabile ginnastica pediatrica e consulente per neogenitori presso millennium sport and fitness di ginnastica pediatrica per non perdere i prossimi appuntamenti iscrivetevi al nostro canale cosa si intende per ginnastica pediatrica per la ginnastica pediatrica si intende tutta una serie di attività movimenti insegnare al genitore come gestire il neonato a casa la ginnastica pediatrica si occupa del bambino della motricità del bambino da zero mesi quindi proprio quando la mamma porta il bimbo a casa e lì si tratta più che altro di gestione del neonato a casa nel momento in cui è sveglio ma anche quando riposa bisogna cercare di non fargli tenere sempre la stessa identica posizione ma gestire lo spazio e la sua posizione nello spazio sempre rimanendo panci su o sul fianco e poi pian piano vanno insegnate al genitore quelle che sono tutte le attività e tutta la capacità di accompagnare la sua crescita motoria nel corso dei vari mesi sappiamo che nei primi due mesi la motricità del bambino è sostanzialmente legata a quelli che sono i riflessi primitivi quindi fa tanti gesti scoordinati che il genitore non capisce e non sa come interpretare che invece vanno accompagnati in un certo modo e quindi insegno al genitore questo quindi come interpretare un gesto e che cosa ci si può fare con quel gesto e poi pian piano tra i cinque mesi si inseriscono altre attività e dai sei otto altre e diversifichiamo quelle che sono le competenze del bambino accompagnandolo nel suo percorso di crescita brevemente quali sono le fasi di sviluppo nel primo anno di vita partendo dal fatto che sono diverse soprattutto se si tratta poi di bimbi prematuri tendenzialmente un bimbo i primi due mesi sta pancia in su e a pancia in giù solo accompagnato dalla mamma e generalmente solo sul petto poi comincia a sostenersi sui gomiti a sollevare la testa accenna qualche piccolo spostamento sulla posizione sul fianco e conclude il rotolamento verso i cinque mesi cinque sei mesi una volta che pancia in giù che è arrivato da solo in posizione prona comincia a muoversi a orologio piccoli spostamenti orologio che prevedono che il bimbo da questa posizione si sposti con perno sull'ombelico come la lancetta di un orologio fatto questo comincia a puntare i piedini per strisciare ma ancora non è in grado sappiamo che i bambini si sviluppano dalla testa ai piedi come forza per cui si troverà a sollevarsi in appoggio sui gomiti sulle mani i piedini non puntano ancora a terra e quindi si trova a strisciare verso dietro che è più un scivolare verso dietro quando poi comincia anche a puntare i piedi striscia verso avanti iniziano quei movimenti di sollevo le spalle e la testa per sostenermi e lascio tutto il corpo disteso dietro oppure lascio la testa verso il basso punto le ginocchia e sollevo i glutei questi due movimenti si ripetono nel corso della giornata per moltissime volte finché a un certo punto riesce a mettersi in quadrupedia quindi a quattro zampe quando in quadrupedia c'è una fase di un po striscio un po gattono perché il gattonamento non parte così in maniera istintiva ci vogliono ci vogliono un po di tentativi finché poi comincia con la coordinazione crociata a muoversi nello spazio gattonando dopo che gattona tendenzialmente si appoggia dei rialzi come può essere il divano comunque un appoggio orizzontale al quale possa appoggiare le mani e sollevare le ginocchia contemporaneamente per poi avvicinare i piedi appare poi la capacità di flettere anche il ginocchio appoggiare il piedino a terra e alzarsi in piedi passi laterali navigazione costiera in appoggio con due mani mi giro frontalmente verso il genitore e cammino nello spazio con un solo appoggio cammino con dispositivi sai primi passi o qualcosa che possa spingere nello spazio e poi pian piano si lascia andare del tutto e cammina in autonomia la gestione di un nonato a casa allora va innanzitutto osservata la routine del bambino quindi sono pochi momenti all'inizio quando è sveglio e può fare delle attività ma comunque ci sono alcune attività che possono essere fatte con colori molto semplici opposizioni quindi metto un asciugamano dietro la schiena del bambino per farlo stare un po' sul fianco così che la testa non poggi sempre su superfici più o meno rigide per troppo tempo il cambio pannolino è una parte importante della giornata perché si ripete quotidianamente per 6-8 volte al giorno all'inizio e solitamente i genitori sollevano quello che è il luteo e tutto il corpo del bambino lasciando la schiena a terra così il mento finisce sul petto questo si può benissimo evitare e in realtà si può accompagnare appunto il bambino nel movimento del cambio sul lato si sfila il pannolino o i vestiti e questo aiuta il piccolo a rinforzare tutta quella che è la sua struttura corporea pian piano con un semplice movimento che di solito viene fatto passivamente poi man mano si cresce si danno tutti gli appoggi di cui un bimbo ha bisogno cose importanti da fare nei primi mesi di vita oltre alla gestione non passiva del bimbo a casa è importante fornire stimoli molto molto semplici i bambini, i neonati soprattutto nei primi due mesi di vita sono molto attenti a qualsiasi stimolo quindi luci, i rumori, sono distratti da tutto per cui meno stimoli si propongono e più semplici sono da recepire e elaborare e meglio è quindi quando si tratta dei bambini 0-2 mesi immagini bianco e nero oppure dei giochi che siano molto leggeri e semplici da afferrare perché con riflesso di pressione palmare il bimbo afferra involontariamente inizialmente però ha in mano questo gioco che deve essere facile da prendere e leggero e poi pian piano si passa a un oggetto semplice ma che faccia anche rumore così si danno due stimoli all'inizio si parte sempre con pochi e poi man mano si va ad aumentarli così anche nello spazio quando poi il bambino ha sei mesi che comincia un po' a stare sul tappeto in autonomia non riempio mai il tappeto di giochi perché poi non può concentrarsi su uno ed è tanto confuso quindi un gioco alla volta che poi va a ruotare con altri Come avviene la lezione a chi è rivolta? Dipende, la lezione è rivolta a tutti i bimbi dal primo mese di vita è una lezione a secco quindi non è in acqua è su dei tappeti che ci sono in struttura avviene uno a uno se il bambino ha delle difficoltà o se è inviato dal medico pediatra in questo caso oppure a piccoli gruppi, quattro bimbi con il genitore perché all'inizio è più l'insegnare al genitore come gestire il bimbo, che attività proporre e come muovere il bambino nello spazio e questo il genitore lo ripete a casa generalmente si vede poi il bimbo ad ogni fase dello sviluppo quindi all'inizio 0 mesi, poi 2 mesi, 4 mesi ogni volta che acquisisce una nuova competenza la si valuta insieme, si osserva che il lato destro del corpo si muova come il sinistro e si accompagna così fino a che il bambino poi inizia a muovere i primi passi si osserva come muove i primi passi e poi lo si saluta grazie dottoressa Chiara Morelli, grazie a tutti per essere stati con noi alla prossima con Women's Health Edition per non perdere i prossimi appuntamenti iscrivetevi al nostro canale Grazie a tutti